Buonasera, come va? Caldo? Piove? E' umidità? Sono 12 gradi? Come mai vedete caldo? E' perché non l'abbiamo avuto anche le altre volte? Perché il posto è chiuso? Perché non è successo anche le altre volte? Come mai questa volta abbiamo caldo e le altre volte no? No, dovete farvi le domande? Sembra lo scarico del cesso, una bella doccia fresca, adesso ti vorrebbe. Vediamo se mi spiego. Riprendo un po' quel pezzetto della volta scorsa di Bis di Sofia che, guarda caso, a caso cercava una roba e soltava fuori quella perché torna utile. Vi ricordate? Sempre schema, eh? Mi raccomando, anima, questo sconosciuto, perché la domanda è quando tu ti dici chi sono, che cosa sono, perché esistono, è perché ti stai interrogando su questa cosa. Perché ciò che ti riveste, che è lo spirito in opposizione, come viene chiamato lì, non si fa domande, ha tutte le risposte, gliel'hanno date, poi lui si percepisce ai suoi bisogni limitati. Poi che cosa c'era ulteriore? La forza, altra cosa indefinita, impersonale, una delle qualità della forza, guarda caso, è il calore. Quello che abbiamo sperimentato è perché una qualità dell'anima che si chiama attenzione è andata su una sensazione, perché me l'ho detto io, che abbiamo chiamato calore, che noi chiamiamo calore. Quindi sappiamo riconoscerla. È andata talmente a contatto da percepirne la consistenza e quindi agitarlo ulteriormente e voi percepirla molto di più. In realtà ragazzi, noi il calore addosso ce l'abbiamo sempre. Se adesso ci mettiamo il termometro sotto le ascelle, una cazzo di temperatura c'è, che vi piaccia oppure no, ma com'è che dicevo quello? 37, deboluccio, 36 e mezzo, male, molto male, comincia a stare 36, moro in fondo, 40, febbre, febbre, tanta febbre, febbre alta. Già lì mi fa capire questo discorso qualcosa di nuovo. Oggi smontiamo un po' di assunti, ve lo dico subito, di vecchi assunti intendo dire. Uno di questi, vi dice, giunge proprio spontaneamente a caso, il discorso della temperatura. Tieni la freda alta, è una brutta cosa, tigliati la tagli birina, perché altrimenti non vai a lavorare, che ti dice la pubblicità? Sei ore da tennis, il cinema, il coso, ti perdi tutto sto spasso vicidiale. No, pigliati la tagli birina, così si abbassa la temperatura. Ma se la temperatura è calore, stiamo parlando della forza. Se nel tuo corpo il calore aumenta, ci sarà una cazzo di ragione. E non è che aumenta perché stai male, aumenta perché ha bisogno di far qualcosa di più, perché stai esagerando. E quindi, quale miglior opportunità quando abbiamo quella che le persone chiamano la febbre, per starcene a letto, non fare un cazzo e sciogliere un mare di contraddizioni della nostra vita. Cioè, usare quel calore per fare i nostri processi interni. Anima? La parola viene dal greco, psiche, giusto? Bene. Allora, dobbiamo capire un po' di cosettine. A parte che, vi dico un altro pezzo, va, perché sennò poi me lo dimentico. In questi giorni sta picchiando di bestia il sole. Guarda caso, il nostro caro sole, quali sono le, sempre schematizzando, le tre forze, qualità, che caratterizzano l'emanazione del nostro sole? Luce, calore e vibrazione. Perfetto. Quindi, tutto quel caldo che si sentiva, è perché comunque l'amico sta sparando di bestia. Quell'ansietà che vi portate a spasso, è perché il corpo, concentrato con le stronzate dello spirito, d'opposizione, non ce la fa a canalizzare tutto quel fuoco. Appena ci siamo messi in calma, ha iniziato a muoversi. Capite? Perché il sole sta dando forza a questa entità, perché purtroppo questa non è separata, un'entità, capite, anima e spirito d'opposizione, pistisofia e spirito d'opposizione, poi c'è la forza, vi ricordate, e poi c'è il corpo fisico. Vediamo come lo riusciamo a fare qua, questa specie di, sembra romino della Mishlein, eccolo qui, con la sua bella antenna, capite? La cosa interessante è che questo calore sta lavorando molto, molto, molto qua dentro, nella colonna vertebrale, a raddrizzarci. Questa forza però, come la opera nel corpo fisico, vi ricordate che cosa diceva il passo? Le parti percepiscono contemporaneamente ognuno secondo la sua natura. questo è quello che si sta processando. Ognuna delle parti percepisce contemporaneamente la spinta secondo la sua natura. Questo si irrita. perché sente scappagli, perché? Perché siccome è molto intenso, arriva proprio a livello fisico, la colonna si raddrizza, lui perde punti di riferimento e quindi inizia quell'ansietà. Il corpo, tra l'altro, siccome per lo più è luogo di manifestazione di questa cosa, chiama la mente, chiamala come cacchio di pare, chiamala il tuo mondo astrale o dei desideri, desideri, perché tanto l'astrale vuol dire quello, corpo del desideri. Tutta questa roba qua, come lo possiamo chiamare ancora? Apparato artificiale, apparato formatorio, come lo chiamava Gurgel. In realtà l'apparato formatorio è una parte di questa cosa, lo spirito, lo posizione, se lo trovi. Dopo, se mai approfondiamo, scendiamo ancora un po' più nel dettaglio, come questa cosa si è prodotta. Perché? Perché artificiale non si doveva produrre, o se si doveva produrre c'è una ragione che va veramente al di là della nostra visione misera umana in questo momento. Cioè, noi possiamo anche avere l'informazione. Anima, per crescere ha bisogno di un avversario. Questo lo trovate un po' ovunque, lo trovate nella tradizione stregola, Tolteca, del Sud America, della Siberia, lo trovate nei Vangeli stessi, nel Vangelo di Giacomo. Giacomo parla in questi termini, non lo chiama lo spirito d'opposizione, lo chiama l'avversario. Se ti trovi di fronte al tuo avversario, cerca di pagare tutti i conti, perché altrimenti li porta in giro per tutti i quadranti, e te non esci più da questa cosa. Va capito, però non è questo adesso, né il momento né la serie. Per cui, l'informazione ce l'abbiamo. Il problema è che è intellettuale. Cioè, mettiamola così, ci piacerebbe che tutto questo abbia questa ragione, perché dà senso alla nostra esistenza. Ma allo stato attuale di conoscenza, e la conoscenza non è l'informazione che sono in grado di buttare qua dentro, per quanto utile sia, ma la conoscenza è gnosis. Cioè, la conoscenza che fa l'anima, cioè il sapere dell'anima, non il sapere dello spirito d'opposizione. Questa cosa, e qui scassiamo il primo assunto di stasera, questa cosa deve essere estremamente chiarificata perché c'è un proliferare di stronzate, o meglio, sarebbero degli strumenti utilissimi se venissero, cominciassero a essere contestualizzati alla luce di quello che viene espresso qua, di questo schema. Purtroppo rimangono vaghe stronzate, un po' come satelliti senza il sole, capite? Provate a pensare a un sistema, come è, dove non c'è il sole. Satelliti, tutti molto utili, ma senza il sole centrale, non servono a niente. Per cui, il sole centrale del discorso è questa cosa qui, è anima, il gioco è anima. E la nostra domanda più importante, se mai è, esiste o non esiste questa cosa? Non può essere l'ennesima informazione buttata qua dentro. Allora, qual è l'assunto? L'assunto ha a che vedere con tutta quella filone lì che rientra sotto la voce di psicoterapia. Ci avete rotti i coglioni. Ci avete rotti i coglioni. Tra counselor, di anetix, costellazioni familiari, programmazione neurolinguistica, sapete qualcun altro? Psicodinamica. Psicodinamica. Non lo so, non la conosco la psicodinamica. Tutto quel lavorare con la persona per andare a fargli fare una serie di processi che non si è capito. Di che tipo, perché? Perché chi va dallo psicoterapeuta? Eh? No, no, ci va anche la persona. Dice uno che ha l'ansia, che ha la depressione, che ha dei blocchi, che non si sente l'altezza della vita, che ha le paure, tutte queste cose qua. Giusto? Va, uno dice, ho bisogno dello psicoterapeuta, circostanze difficili della vita, non le riesco a superare, ho bisogno di... Non sto parlando di farmacopea, eh? Cioè, i farmaci manco li discutiamo. Il farmaco è la più grande inchiappettata che ci può essere, perché? Per un attimo ti plaga. A livello fisico, però, eh? Ricordiamoci che le parti qui sono quattro. Le mettiamo? Fisico, spirito d'opposizione, anima e la forza. La forza è a disposizione. Mettiamola così. È più impersonale. Ragazzi, la forza e lo spirito santo è plasmato nel ritmo perenne della creazione. A disposizione. Tu ne hai di tuo e ne puoi attingere dal campo stesso. Il lato attivo dell'infinito che opera continuamente. Se voi poteste vedere una persona con l'occhio unico, non vedreste il corpo fisico, vedreste continuamente la vita dentro di lui. È come quando guardate quei documentari e vi fanno vedere quei dettagli al microscopio dove vedete che il microscopio entra nella vena e cominciate a vedere tutto quel bruricare di vita. Quella cosa a livello sottile si traduce in un movimento di flussi energetici. Chiamiamoli energetici. Poi è elettricità e magnetismo. Elettromagnetismo. Capite? Tutto il discorso delle onde a massa frequenza, del perché un fegato comunica col cervello. C'ha una frequenza precisa. Se quella frequenza si altera il fegato non sta più. Non ce l'ho a sinistra, ce l'ho a destra, non ce l'ho a sinistra. Il fegato smette di comunicare o comunica male e quindi si stanno cercando di inventare questi sistemi dove attraverso l'utilizzo di macchinette che trasferiscono questi impulsi uno normalizza la comunicazione tra l'organo. Ma l'organo innanzitutto prima di essere fisico è fatto di un brulicare di vita che si organizza secondo la frequenza specifica dell'organo. Guardate che questa è roba non dell'altro ieri. Io vi sto parlando di roba degli anni 70. Se vuoi cercare, ve l'ho già detto in un'altra occasione, un certo Todeschini, Marco Todeschini, qua sta a Valle inagna nella Bergamasca, ha già spiegato tutto questo. tant'è vero che il professorone Muti, non so se conoscete il prano terapeuta, sviluppa poi tutta una serie di tecnologie proprio sugli studi, anzi, stimolato da Todeschini perché se andate a guardare su YouTube troverete una conferenza dove c'è questo Todeschini invecchiatissimo che dice delle cose immense, veramente. Questo gli dovevano dare il nodo e l'hanno fatto di tutto per farlo sparire perché praticamente mandava all'aria la teoria di Einstein. e siccome questo non se lo potevano permettere fu 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 tutta insabbiare. Teoria delle apparenze scrive questo tomo incredibile dove spiega veramente come funziona l'universo e ha trovato ovviamente la teoria come tutte le teorie non sono la realtà ma un aiuto per capire meglio dove siamo messi ma unificatrice del microcosmo e del macrocosmo che è quello che si è sempre cercato alla fine perché Einstein non descrive il microcosmo la sua relatività funziona fuori nel microcosmo funziona la fisica dei quanti infatti i quantisti i relativisti non si parlano fra di loro perché si sputano negli occhi uno con l'altro perché uno è un mezzo spiritualista perché poi che succede quando opera in quel modo e inizia a studiare il mondo dei quanti in quella maniera comincia a scoprire che ci sono delle cose strane ma logico è più difficile accorgermi di come fa la mente umana a interferire nel movimento dei pianeti è più facile accorgermi di come il pensiero umano interferisce sullo stato della materia e quindi vengono fuori tutti quei discorsi sulle indeterminazioni vengono fuori quegli esperimenti dove vengono sparati fasci di luce con un cannone e in presenza di astanti durante lo svolgimento dell'esperimento la luce si comporta come una particella in assenza quindi il cannone spara luce in automatico poi vanno a vedere sulla lastra si comporta come un'onda e nasce tutto quell'altra questione lì l'osservatore influenza il fenomeno da lì arrivano le stronzate di New Age perché da influenzare il fenomeno a esserne consapevole è un altro paio di maniche infatti perché l'osservatore in quel caso non è quello che pensiamo noi allora ritorniamo all'assunto ripongo la domanda chi va dallo psicoterapeuta? lo spirito d'opposizione non l'anima e quindi lo psicoterapeuta lavora sullo stress dello spirito che è impianzato per qualsiasi ragione sia che sia dovuta agli altri là fuori o che sia dovuta al fatto che l'anima sta iniziando a fare delle cose e lui va sotto stress e quindi c'è bisogno del terapeuta tu una persona la puoi aiutare ma devi riuscire a fargli capire la psicoterapia serve quindi contestualizzandola in questo modo serve per capire i comportamenti dello spirito d'opposizione ma bisogna sapere a priori che c'è un osservatore qua dietro che è quello attraverso il quale di quando in quando passa a coscienza che grazie alle informazioni che è riuscito a raccogliere nel suo contenitore intellettuale perché comunque quello è condiviso un po' lo smunchiona questo qui e un po' attinge anche anima a quelle stesse informazioni capite? il gioco dove sta? che quello che uno riesce a fare attraverso il canceller la psicoterapia lo scoprire nuovi sistemi di indagine sono informazioni utili non tanto per guarire lui ma tanto per permettere a anima quando ha coscienza di rendersi conto come lui funziona perché questo sotto stress o in calma in calma in pace perché poi lui cerca di scivolare liscio capite? scivolare liscio vuol dire assolvere a tutti i bisogni che ha quindi quando ho un flusso luminoso di coscienza accorgermi e finalmente sapere chi cazzo è questo maggiori informazioni ho a proposito del mio avversario capite? allora questa cosa comincia a diventare più concreta non è più un'idea buttata lì come dire sì certo perché la mia anima ha bisogno dell'avversario per crescere è così che faccio un cazzo perché poi uso questo concetto per giustificare la mia inerzia di fondo il problema è quello continuando a contestualizzare le parti dimenticandoci il centro questi studi entrano tutti sotto un'unica grande voce che viene ancora prima di Gnosis che si chiama antropologia l'antropologia significa studio dell'uomo che significa se tu stai studiando l'uomo vuol dire che l'uomo è al centro dei tuoi studi il centro della questione però non è l'uomo è questo perché quando il filosofo antico parlava di antropos non si stava riferendo al corpo fisico e nemmeno a questa cosa si stava semmai riferendo a tutto l'insieme ma in realtà l'uomo di per sé è umano l'umano è l'anima è l'aspetto dell'anima è quella cioè andando poi a stringere in sostanza verso l'interno troviamo che l'uomo è questa cosa qua per quello l'uomo è ancora un mistero perché noi stiamo ancora osservando gli effetti senza coperne le cause per capire le cause è vero che abbiamo bisogno di informazione ma dobbiamo fare un'esperienza diretta di ciò che siamo e quindi grazie alla coscienza che è disponibile sempre intorno a noi allora ritorniamo alle tre forze luce calore e vibrazione il calore diciamo che per lo più non è proprio così perché dobbiamo schematizzare e il problema sta lì in realtà istantaneamente queste tre cose arrivano il calore dà forza all'entità la luce è coscienza per quello la luce l'eremita che va in giro con la lanterna a cercare no? chi cazzo sta cercando? sta cercando se stesso ma no il me stesso è questo questo è il me stesso questo è il vacuum il vuoto assenza di tutto quanto è la più grande consistenza che noi possiamo sperimentare ma è vero di Filippo oggi toccava Filippo segno del cancro parla fondamentalmente di questa cosa qua Filippo Filippo parla dell'importanza di andare alla consistenza delle cose che mai dopo vi leggo anche un passaggio anzi ve lo leggo subito così ce ne iniziamo intorno due andiamo da piccine eccoci qua l'avrò già letto non so quante altre volte però va bene i nomi date le cose terrestri racchiudono una grande illusione infatti distolgono il cuore il cuore è questo non è il cuore il cuore il cuore che cos'è il centro il cuore di un carciofo che cos'è quando vado a togliere tutti i veli a un certo punto arrivo alla sostanza il cuore è la sostanza delle cose quindi dice le grandi illusioni infatti distolgono il cuore da ciò che è consistente per volgerlo a ciò che non è consistente non avevo appena finito di dire che l'attenzione è una delle qualità dell'anima distogliere che cosa dice distolgono il cuore le parole i nomi dati alle cose distolgono il cuore da ciò che è consistente per volgerlo a ciò che non è consistente capite? le parole in quel senso a meno che più avanti dice dov'è? con tutte le altre cose non si afferma vabbè poi fa tutta una digressione inutile che ve lo dico a meno che non si sia arrivati a conoscere ciò che è consistente conoscere anche qui la parola non si sta riferendo all'informazione ma all'agnosis per conoscere l'ho già detto però ci sta tutto ripeterlo per conoscere devono accadere alcune circostanze importanti tra cui quella di essere presente a me stesso perché nell'essere presente inizio a canalizzare ricevere la luce quindi la coscienza attraverso questo passaggio luminoso io sono in presenza di coscienza e quindi inizio realmente a conoscere le cose perché chi sono io? io sono quell'uomo quell'uomo sono io dice Gesù non è Gesù che parla è questa parte è il Cristo cioè è quando uno inizia a realizzare l'io sono famoso di cui parla Gurgier che a me mi piace poco con la parola io perché l'io è tutto qua ormai per noi e questa mi piace di più chiamarlo sempre perché è indeterminato impersonale rivelato astratto ed è quella la cosa più difficile per noi cogliere perché essendo astratto noi tendiamo a cercare rifugio nella concretezza del nostro spirito di posizione però dobbiamo capire che la psicoterapia fondata solo sul tentativo di risolvere i problemi del nostro spirito d'opposizione non è detto che ci porti a conoscere chi siamo e quindi è lì che stai agganciato degli anni e non ti passa oggi che è una turba domani un'altra turba perché i tuoi cazzo di turbamenti da dove vengono? da dove vengono i nostri turbamenti? sì vengono dal fatto che ci sono dei bisogni che non vengono appagati quello viene il turbamento c'è stata la rimozione ne abbiamo parlato in altre occasioni quali sono i bisogni dello spirito d'opposizione? territorio vedete che iniziamo a capirci sesso o riproduzione e cibo cerco relazioni territorio voglio farmi le persone sesso ho bisogno di lavoro prestigio tutto cibo cominciano a non funzionare queste cose che faccio mi altero comincio a turbarmi ho l'ansia ho le preoccupazioni tutta questa cosa possono essere turbamenti momentanei che ne attraversano ma se permango in quella condizione che cosa diventano? cominciano a diventare patologiche quello che ti dice Amer che ti dice Amer con le leggi biologiche? c'è la circostanza va bene lui parla dello shock inaspettato tutto quello che vuole ma fai comunque la biologia è sensata anche senza che te c'è degli shock perché se sei sotto pressione perché una di queste cose non ti sta funzionando o due o tutte e tre le cose non ti stanno funzionando la stima di te stesso se ne va sotto i piedi e questo è quello che gli interessa a lui perché da cosa dipende la tua autostima da quanta forza disponi se lui ti toglie la forza è a posto che dice Pisti Sofia? lo spirito d'opposizione ti toglie la forza e la luce chi te ha messo lo spirito d'opposizione e gli arconti simpatici chi cazzo sono questi arconti? no? pensate che sia un'entità aliene magari nel tempo ma quando sei qua lo sai finché te sei identificato più del tempo con questa cosa lascia stare quelle teorie perché ti alteri ulteriormente più di quanto stai già messo l'arconte in qualche maniera secondo Pisti Sofia è colui che genera questo universo leone quindi non è un essere umano non è una forma piena è un'entità che va al di là dell'immaginabile umano è un Dio che cazzo ne sappiamo noi di Dio? una minchia non sappiamo neanche cos'è l'uomo figurati come facciamo a sapere noi a darci spiegazioni su chi è Dio mi fa mi fa veramente tante volte molto ridere capite? tutto il discorso per cui l'arconte fa quello e lui mescola parti di sé nel calice che viene dato all'anima a Pisti Sofia prima di incarnarsi e questo calice lo porta nell'ublio e non si ricorda più da dove cavolo arrivava ma l'arconte può essere tante cose noi dobbiamo capire che questi scritti vengono fatti in un periodo storico dove si cioè si moriva ragazzi si crepava a parlare di queste cose si finiva morti secchi e poi c'era anche una ragione una ragione è che parlare per codici aiuta di più anima essendo anima molto rivestita di questa cosa qua e essendo questa cosa qua incapace totalmente di comprendere i codici nel Vangelo si chiamerebbe codice liturgico nell'alchimia c'è il codice degli alchimisti voi se aprite un manuale d'alchimia non ci capite un cazzo manco per fare una tisana riuscite a capire che cavolo ti sta dicendo quello perché sta parlando in codice perché non vuole sta cercando di superare il filtro dello spirito d'opposizione per vedere se c'è ma se c'è la fiamma perché se qua non c'è un barlume non succede niente capisci tu leggi quel libro e alla fine la tua conclusione sarà la sua conclusione che è non ci sto capendo un cazzo per quello vi ho detto tante volte imparate a ascoltare bene che cosa vi accade a livello fisico mentre leggete qualcosa perché può essere che intellettualmente non lo capite ma perché per forza la tana di questo coso qui ormai è la tua mente il tuo intelletto quindi può essere che a livello logico razionale non ci stai arrivando ma a livello di comunicazione non verbale quello che stai leggendo ti sta iniziando a suscitare delle sensazioni strane almeno strane come dire mi sembra una stronzata però c'è una cosa qua che mi gira nella pancia già quella cosa che ti gira nella pancia è quell'attrito che si sta iniziando a creare perché perché questa parte assopita privata della luce della forza capite cosa significa grazie a questo scritto che parla in questo codice liturgico ha iniziato di nuovo a fare dei guizi muovendosi questo si agita chi è smith? programmi senzienti che entrano e escono da ogni software che servono a tenerti sotto controllo per cui se qualcosa filtra la barriera e penetra all'interno dell'anima e lui va subito ragazzi scatta la centrania ce n'è un altro che sta cerchendo di fare qui muoviamoci subito diamoci da fare che lo dobbiamo sedare per quello l'unione fa la forza per quello che è utile fare dei gruppi incontrarsi e tutto il resto perché attraverso questa cosa ovviamente si capisce da solo si intuisce ci sono delle cose che possiamo alle quali possiamo riuscire ad arrivare da soli con le nostre forze e risorse altre cose che senza metterci insieme non riusciamo a fare facciamo fatica perché perché comunque voi vi credete che state da soli ma non è la verità voi siete soli ma in un campo di influenza di un altro genere quando ci troviamo qua siamo tanti all'interno di una sfera di influenza quando sei là fuori sei solo ma non sei solo punto sei solo all'interno di una sfera di influenza dove quelli che ti circolano intorno qui non c'è più niente c'è solo spirito d'opposizione è come io alla fine del film che inizia a correre avanti e indietro e quella che stava stirando diventa una che lancia il coltello quell'altro si trasforma e c'era il fruttarolo di colpo comincia a sparare capite il significato di quella scena che vuol dire che a un certo punto per riuscire veramente a essere solo come pensi tu e contrastare tutta questa attività del campo di influenza delle quali sei messo eh minchia devi avere una bella forza devi aver cominciato ad accumulare e aver costruito una bella forza diversamente è meglio farsi come fa un esercito ognuno si guarda alle spalle uno con l'altro per quello l'utilità di incontrarsi e di essere nei gruppi e per quello anche si capisce perché io non dico non faccio lo psicoterapeuta che cavolo me ne frega me di mettermi a parlare col tuo spirito d'opposizione per fare cosa per tranquillizzarlo per dirgli stai tranquillo per dirgli guarda che il tuo problema adesso che c'hai è un problema di relazione con la tua fidanzata se quella la mandi a fanculo comincia a stare meglio perché è lei che ti sta facendo stare male quello la manda a fanculo ma chi è che ha fatto tutta l'operazione questo questo qui che c'era la fidanzata che non c'era la fidanzata non gliene frega niente perché il suo scopo è un altro è acquisire consapevolezza il suo scopo è quando arriva il momento sono finito qua cacato per caso come mi dice la scienza però era un momento in cui il tempo di soggiorno qui finisce e dopo che cazzo faccio come mi metto ok se c'era ragione la scienza ufficiale e ti metti come tutti gli altri orizzontale e saluto Sanigos ma se appunto a caso che sbaglio la scienza ufficiale comincia a aver cazzato un po' di cose ha rimosso se ti fai un po' di comincia a informarti un po' meglio capisci che fanno delle rimozioni e tutto quanto e quindi questa verità ufficiale che viene raccontata è un po' a uso e consumo personale perché lo capite quando adesso ve lo leggo dove è? capitolo 96 e me lo sono andato a cercare beh quello è il clou eh non ce n'hai un altro il clou ce l'hai lì ok trovate per cui dicevo quella storiella va bene perché se tu tu attraverso quella storiella che fai? che farai? se la tua vita dura 80 anni allora rifacciamo riraccontiamo l'assunto vecchio sei una cosa cacata nel buco del culo dell'universo a caso e non gliene frega una minchia a nessuno che tu esisti perché tanto prima di te ci sono miliardi di anni dopo di te ce ne saranno altri miliardi l'universo con l'assa strozzata l'universo non ha mai avuto un inizio e quindi non avrà mai una fine e che questo nella logica razionale di questo qui non può funzionare perché lui ha un inizio e una fine che dice l'oracolo tutto ciò che ha un inizio ha una fine chi cazzo ha avuto inizio? lui non questo la domanda è se questo qui è o no capite dove è il discorso di Dio non c'entra niente è lo spirito d'opposizione la tipologia è dello spirito d'opposizione non è dell'anima la posso trascendere non la posso trascendere se rimango all'interno della dottrina psicoterapeutica nella quale sono agganciato perché orecchie per intendere spero stia intendendo con chi parlo invece questa roba qui è tutta un'altra natura e l'uomo non ci è ancora arrivato con tutti i suoi studi terapeutici se no noi ci blindiamo dentro questa cosa e ci diamo fine a un livello a un lontano superiore ci siamo dati già la morte e invece non è detto è che bisogna sapere prendere tutto questo utilizzarlo per rimuovere il problema è vedere chi è che c'è qua perché ciò che c'è qua non riesco a scoprirlo perché c'è questo che scassa le palle con tutti i suoi bisogni e tra l'altro io mi straidentifico con lui capite? Revolver sempre stessa scena dentro il corpo perché si parla di morte? perché quello rimane incastrato tra il dodicesimo e il quattordicesimo piano? per chi ha fatto il film ne sa un po' di cabala e sa che il tredici l'arcano perché poi ognuno dei tarocchi delle carte tarocche non sono tarocchi come quelli che li fanno in Brera è un altro modo per parlare dell'adoro sefirotico i primi dieci sapete come funzionano? sono 22 arcani maggiori e quanti cacchio sono? 72 56 non lo so non me ne fregono un cazzo minori perché tanti minori hanno a che vedere con lo scassamento di palle di questo gli arcani maggiori hanno a che vedere con l'evoluzione o la rivoluzione dell'anima gli arcani minori hanno a che vedere su quello che sta succedendo a livello di spirito d'opposizione qua stiamo parlando di scienze certe non la divinazione del taroccato in via Brera stiamo parlando della possibilità di avere il polso di quello che ci sta accadendo di istante in istante se ovviamente per un attimo agganciamo i flussi e quindi abbiamo un'informazione relativa a quello che sta accadendo a livello di processo animico l'arcano maggiore la consulta si fa così si gira l'arcano maggiore si pone lì e si mettono i due arcani minori di qua miscolando le carte a caso uno direbbe non è a caso però diciamo che a caso perché anche se fosse a caso se quella cosa lì che tu disegni quel quadro ti fa ragionare su delle cose anche quel caso torna utile quindi c'è l'arcano maggiore posto davanti i due arcani minori ai lati perché i due arcani minori ti individuano ve l'ho già promesso ve le spiegherò meglio adesso lo passiamo un po' veloce così i due arcani minori ti individuano le circostanze che sta vivendo e che cosa sta facendo questo qua per dare una mano a questa parte a come dire sciogliere quello che non sta capendo non sto capendo io lo individuo e vabbè dovreste vederlo e fare un esempio e poi dopo lo capireste molto meglio per cui ritorniamo alla storiella tu sei quindi questa cosa qui buttata cacata nel buco del culo dell'universo a caso e quindi quando tu finisci il tuo tempo te ne vai in orizzontale arrivederci e grazie e questa è la storia quali sono gli effetti morali ma oggettivi non morali della moralità quali sono gli effetti morali di una storia del genere secondo voi demotivanti disarmanti senso di impotenza senso di ingiustizia sarà mica quello uno che dice ma puttava come è possibile sono nato mi tocca trepare ma che schifezza è questa eppure e devo pure trascorrere la vita a rendermi conto giorno dopo giorno che sto andando a finire in quella cosa però se non c'è molta forza che succederà vi ricordate l'altra volta diceva la forza l'anima e lo spirito d'opposizione quando il bambino nasce sono deboli poi iniziano ad acquisire ognuno l'intensità che ha bisogno se non c'è più tanta forza perché questa storia e a te te la raccontano da appena puoi iniziare a ascoltare delle storie che farai ti lascia andare prenderai un mare di altra materia considererai che tutto ciò che puoi fare nella vita è realizzare delle condizioni adatte e quindi assolvere a questi quattro bisogni che poi sono pure tre e nel tentativo di stare bene e passartela come meglio si può sti cazzo di quanto 80 anni poi non te li fanno più neanche 80 perché ormai 80 guardate che la vita media è 80 anni perché tuo nonno è campato fino a 120 e quindi ma già tuo zio è crepato a 45 di qualcosa fanno la media e diventa 80 anni cioè la media di cui parlano adesso della prospettiva di vita è influenzata da quelli che sono durati tutto quel tempo ma stiamo parlando di quanto? 4 generazioni fa la prospettiva di vita della nostra generazione fai dagli anni 60 al dopoguerra in avanti e chi lo sa qual è ma non ce ne frega niente non è lì che voglio andare a parlare allora com'è il discorso? una storia del genere farà sì che tu cercherai di realizzare quello che dicevo l'altra volta questa sorta di aria di comfort scivolare liscio vi ricordate quante volte voglio navigare liscio via tranquillo non mi devono succedere cose e quindi che faccio? minchia mi assicuro l'assicurazione compro l'automobile a rata e faccio l'assicurazione nel caso in cui non riuscissi a pagare la rata perché così sono assicurato che non mi portano via la macchina assicuro la macchina assicuro mia madre mi assicuro pure quando crepo mi faccio pure l'assicurazione su una morte secondo voi che sintomo è questa cosa? di voler sempre andare via lisci mi può che non ti fanno la pubblicità ma l'avete visto? è genialoide ve lo ricordo col cartone animatino perché se io te lo faccio col cartone animato ti passo un messaggio forte ma dolcemente se invece ti faccio vedere uno che cammina gli arriva un vaso di gerani in testa e gli si apre il cranio e comincia a uscire il sangue ti fa impressione quella pubblicità se invece ti faccio il cartone animato dove c'è la sciura che sta innaffiando e a un certo punto urta il vaso gli arriva in testa uno e quello dice ma lei è assicurata? genialoide fu 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 sono assicurata e così ti ruba in casa sei assicurato perché così qualsiasi cosa tu faccia ovviamente tu faccia dove? all'interno del tuo cazzo di recinto perché poi è più che quello comunque cerchi di metterti al riparo da qualsiasi cosa perché fondamentalmente vuoi scivolare liscio hai perso tutta la forza dell'universo non riesci neanche più ad assorbirla dal faro centrale del nostro sistema e per cui sei tutto completamente condizionato ipnotizzato schiavizzato in questa forma ho parlato di forma questa volta questo è l'effetto di quella storiella non è mica poca roba io ti racconto un'altra storia ti racconto che tu chissà da dove cazzo vieni e qui non ce n'è uno ancora che ce l'ha veramente l'ha inquadrato serio ovvero quelli che ci sono riusciti appena ne hanno iniziato a parlare ne hanno ammazzati tutti e questo già dovrebbe farti venire due sospetti ripeto sempre la stessa cosa Gesù Cristo non ce l'ha messo Dio sulla croce ce l'hanno messo altri uomini perché quello raccontava cose che non doveva raccontare capite? va bene andiamo avanti quindi tu sei già sei questa cosa indefinibile astratta impersonale ma di una consistenza estrema che se solo inizi a contattarla è come il motore dell'automobile tu c'è presente un'automobile quando è ferma la posso spingere no? la spingo ci metto un mare di energie di forza per spingerla minchia però vi ricorda vi sarà capitato prima o poi nella vostra vita o di rimanere con la batteria scarica o di essere così io parlo per primo dicevo sempre la tannica nel bagagliaio perché c'era un periodo finito sempre al mosso a pochi chilometri dal benzinaio qui dovevo fare a piedi però se era abbastanza vicino che fai? te la spingi la macchina quando tu spingi la macchina se vi ricordate bene l'esperienza che fai tu spingi la macchina e ti fai un culo che non finisce più aerei finalmente al distributore metti la benzina quando giri la chiavetta come ti senti? mi sviluppo rimetti la marcia rifai in due minuti il pezzo che ci hai messo un'ora e mezza e lì capisci la differenza ecco questa roba qua funziona nello stesso modo tu passi metà se ti va di culo della tua vita a spingere la macchina come un dannato un giorno ti va a culo di incontrare un distributore metti un po' di benzina qua e sperimenti quella cosa e dici puttana ma non tutto quello che mi hanno raccontato fino adesso sono fregnacce magari ci avrò ancora pure solo 80 anni di vita e tutto quanto ma meglio viverli così che viverli a spingere la macchina cazzo non lo sapevo neanche che si potrebbe mettere la benzina perché noi siamo arrivati a un punto di demenza che neanche più sappiamo che quell'automobile c'è un serbatoio e che può essere caricata capite? torniamo alla storiella che vi voglio raccontare quindi questa cosa arriva ed è questa cosa immensa che può fare un mare di queste cose e non si sa com'è che ci è arrivata per quanto Fisti Sofia ce lo spiega però il fatto che ce lo spieghi non significa che lo sappiamo stesso discorso di prima del concetto di avversario il fatto che noi ne abbiamo l'informazione non significa che lo sappiamo però ci sono delle cose che ci sono informazioni che ci fanno ci lavorano in un certo modo altre informazioni che non ci lavorano per nulla per esempio il capire e raccontarci che questa anima si rincarna e va nei suoi cicli non ci produce allo stato attuale più nessuna sensazione particolare salvo rari casi sapete perché? perché questo concetto l'hanno talmente tritato e ritritato che ormai non ti produce più nessun effetto cioè l'idea è stata consumata e quindi non c'è quello shock che non arriva si ferma qua e quindi non arrivando qui non c'è attività qua dentro per quello lo stregone te fa lavorare con la morte perché l'uomo nella condizione attuale in cui è posto l'unica cosa e argomento che sente se gli brucia è proprio che lui un giorno crepa di fronte a questa cosa tutti ci mettiamo con le spalle all'uomo e quasi di autorità iniziamo a dire oh non rompere i coglioni levati di qua smetti di parlare perché qui c'è una cosa seria da ascoltare l'amico va fuori dai piedi almeno per quell'attimo va fuori dai piedi è di quella storia che vi voglio parlare perché questa cosa che noi non abbiamo capito da dove arriva chi precisamente è però nel giorno in cui crepa succede qualcosa succede questo che vi deco quando ricevono i rotatori e rindici i ricevitori e rindici sono delle figure che vengono utilizzate in pisti Sofia per indicare dei ministri che vanno a prelevare l'anima e la portano nei luoghi del giudizio questo è come viene è lo schema per capirci l'angelo della morte quello che voi chiamereste l'angelo della morte quello che gioca a scacchi col tizio con la maschera e la falce sapete perché il simbolo della falce perché la falce taglia il cordone l'argento l'antaganara che collega anima al fisico la falce serve per quello l'angelo della morte qui si chiamano i ricevitori e rindici sono dei ricevitori te li mandano apposta sono accoglienti sono lì per te per non traumatizzare l'anima che ha vissuto come un idiota per tutta l'esistenza e non ha capito molto allora se non ha capito granché la portiamo nei luoghi del giudizio i luoghi del giudizio non è dove il tribunale del karma gli va a fare a sentenziare quanto è stata peccatrice nella sua esistenza e quanto non si è accorta è come dire è un processo dove quest'anima rivele la sua vita ma ha siccome non ha più tutta la densità dello spirito d'opposizione perché lui l'accompagna e basta ma non è non la sta rivestendo ha la possibilità potenziale se c'è il valore qua dentro di iniziare a accorgersi di come ha condotto la vita e quindi i luoghi del giudizio in realtà non sono altro che regioni interne quindi è il processo post-mortem di quando quell'anima a un certo punto e voi queste cose le ritrovate in tutti questi minchia di racconti gli studiosi che fanno gli studi sulle overs o le esperienze di premorti e vi dicendo dove il primo elemento comune in tutte queste esperienze è qual è? che la persona rivede tutta la sua vita al contrario con un figlio quelli sono i luoghi del giudizio arrivano i ministri rinici quindi niente di che vuol dire che arriva il momento in cui c'è il distacco in realtà non c'è ancora il taglio per quello si chiamano esperienze premorte perché la persona vive quella ricapitolazione della vita per un attimo sperimento un pentimento capite cosa servono i pentimenti di pistisopia invece di arrivare in quel momento a pentirti che chissà quanto grado di pentimento può aver raggiunto lo fa in vita per arrivare in quel momento a essere completamente leggero dopo adesso vi racconta anche quel pezzo mi state seguendo o mi avete perso perché capisco che i pezzi sono diversi perché a seconda di come quest'anima ha condotto la sua esistenza lì si gioca la partita è una storiella ricordo che è una storiella la storiella che vi hanno raccontato è che siete qua cacati nel buco del culo dell'universo io vi sto raccontando un'altra storiella vediamo quale delle due storielle però mette pepe al culo come si direbbe dalla mia parte e quale continuano ad alimentare questa sorta di inerzia ormai contemporanea che ci va bene tutti viviamo in modo milioni di persone che vivono inconsapevolmente i suoi fatti al sistema ogni tanto vanno in stress vanno dallo psicoterapeuta gli dà quello che lo spirito si aspettava le risposte che lui vuole sentirsi dire magari fai un po' di modificazioni aggiusti un po' di cose nella tua vita e ti credi che spiritualmente ti stai levando si spiritualmente di opposizione ti stai levando molto spiritualmente di opposizione perché questa parte non ha bisogno di quel genere di percorso io questo voglio farvi capire anima non ha bisogno di nessun percorso spirituale o psicoterapeutico sveglia gente siete sotto ipnosi anima non ha bisogno di quel tipo di trattamento anima ha bisogno di entrare in attività finito di canalizzare coscienza per accorgersi quello che le sta accadendo nella vita è lo spirito d'opposizione che ha bisogno di fare un percorso per levarsi nei coglioni ma se non c'è questa parte che lo sa e gestisce la terapia è solo questo pezzo che sta lavorando riesco a farmi capire perché questo è fondamentale questo è assolutamente fondamentale se no ragazzi voi vi cercate un canceller dopo l'altro pensando che questo vi sta proiettando nel grande risveglio della vostra coscienza di questo paio di coglioni ed è il gesto è giusto perché questo paio di coglioni sono dello spirito d'opposizione non sono della mia anima è lui che li decide secondo i suoi bisogni poi parliamo anche del discorso dei bisogni mettiamocela qui la scritta perché ovvio perché qual è anzi ne parliamo subito i bisogni perché poi c'è l'altra parte ed è la nostra società è ridotta come ridotta perché la morale comune il senso comune del pudore ha fatto sì che in noi si producesse la rimozione dei bisogni e queste cose sono diventate che cosa? desideri inconfessabili vi ricordate tutto il discorso anche che fa Freud e tutto il resto giusto esatto quindi qual è la risposta a tutto questo? diamoci la trasgressione più totale inculiamo chi ci capita inchiappettiamo maniamo abbuffiamo ci fottiamo chi ci pare carriera a mille tutti famosi tutti dalla Maria dei Filippi orde di barbari nuovi barbari rincoglioniti peggio di prima perché la risposta non è quella ok questi bisogni sono stati repressi ma non è che se tu gli dai sfogo ottieni un vantaggio il punto è al punto dove stai studiare come lavorano questi e capire come queste cose mi viscono e impediscono alla tua anima di muoversi quello è il discorso e allora lì ognuno saprà qual è la misura capisci anche della sua trasgressione non esisterà più la parola trasgressione perché deve arrivare un momento in cui forse capite perché non c'è un metodo per tutti e lì è la misura dove sta la misura la misura è ancora qua ragazzi perché la misura è l'anima che la conosce non lo spirito lo spirito d'opposizione conosce un'unica misura che si chiama Brahma vi ricordate quando vi ho fatto vedere i sette peccati la Brahma che noi poi attribuiamo alla gola l'ingordigia è la sua virtù opposta è la temperanza cioè la giusta misura ma la giusta misura ce l'ha questa parte e la manifesta spontaneamente tu non hai bisogno di nessun percorso spirituale tu hai bisogno di svegliarti una volta per tutte e finirla di farti raccontare fregnacce di questo c'hai bisogno invece siccome hai paura perché perché contattare questo significa prendere le redini in mano di un'esistenza che è oltre il tempo e lo spazio e questo terrorizza le persone perché sono state abituate a stare dentro un recinto anche se gli api la gabbia non vogliono uscire perché ormai hanno paura ragazzi è quel film lì sulle ali della libertà ve lo ricordate al tizio che alla fine quando finisce di scontare i suoi anni di galera quando esce si suicida state attenti perché il gioco è quello la partita che sta giocando la storiella nuova che vi sto raccontando parla di qualcosa che si chiama in esoterismo i cicli di trasmigrazione delle anime ma solo che se io te la racconto partendo dal fatto che la tua anima si incarna tu te ne batti i coglioni perché ormai questa cosa è stata talmente trita che la usi per giustificare il fatto che quindi hai tutto il diritto di dare sfogo a questi bisogni perché? perché comunque la tua anima sta evolvendo ricordati che come volvi volvi l'anima fa una rivoluzione non fa null'evoluzione l'anima rivoluziona il suo ciclo non si chiama ciclo di rivoluzione del sole della terra perché di rivoluzione e non di evoluzione perché i cicli sono rivoluzionari quei cicli quindi l'anima è all'interno di un ciclo rivoluzionario e per noi è difficile sentire di essere parte integrante dell'infinito di questa cosa enorme gigantesca e che siamo in viaggio e che non si crepa vivere per l'eternità ci terrorizza quanto morire che ci sia stato un inizio e ci sarà una fine ci conforta questa è la condizione di schiavitù dell'uomo e allora la natura l'universo gli dei che sono saggi che fanno arriva il ministro clinico ti prende ti porta nei luoghi del giudizio per aiutarti come dire dai ciccio che ce la puoi fare vediamo se riesci a crescere prova a mettere in opera quel poco di coscienza che hai per accorgerti come cazzo sei vissuto ma non perché così si pente dei peccati che ha fatto non so se capite per accorgersi che si è fatto inculare un'altra volta il peccato è l'ennesima infinocchiata morale il punto è accorgerti che tu ti fai inculare ogni volta in questo ciclo di cose e allora e quindi che succede se hai scusa quando tu ti accorgi che ti hanno fregato che fai? senza arrabbiarti dico quando vi sarà capitato di essere stati fregati in qualche modo ma al di là della reazione iniziale di essere arrabbiati l'avrete io o meno io posso dare testimonianza di averlo sperimentato capita anche delle volte che siccome capisci che tutto è di peso un po' dalla tua ingerità fai una crescita e da quel momento impari a non cascare più nelle trappole non ti incazzi col tizio e cominci ad assumere un altro atteggiamento repressivo nei tuoi confronti perché poi è quello ti blocchi ti ripisci per non farmi inculare più che faccio tripla assicurazione non è che mi faccio più intelligente no mi faccio un'altra assicurazione sull'assicurazione perché è l'assicuratore che mi ha inculato e quindi mi assicuro di assicurarmi che non verrò inculato un'altra volta quello non è intelligente intelligente è flusso di coscienza capisco e quindi mi rendo conto anzi spero che mi ricapiti qualcosa di simile per vedere se veramente ho capito capite sono approcci completamente diversi e questa natura funziona in quel modo non in quest'altro questa è conservativa mantenimento questo è chi se ne fotte devo sciogliere i vincoli e volare perché qui c'è ancora tutto l'universo che devo scoprire e c'ho l'eternità per farlo capite il senso quindi in quell'occasione succede quella cosa dove quell'anima che ha condotto una vita di un certo tipo può cioè ostinandosi come dice qui nel mistero dell'unione sessuale che vogliono dire nella natura di mantenimento viene portata per quei luoghi e può essere che e quindi viene rimpastata e sbattuta di nuovo qua in maniera tale che sperimenti di nuovo le stesse cose per vedere se sto giro la capisce in un altro modo c'è un'altra opportunità della storiella che è questa e dice ma quando ma quindi tutto il pezzo ve l'ho già appena raccontato così non lo leggo c'è l'altra parte ma quando i ricevitori erimici scioglieranno un'anima che accolse quell'unico mistero dell'inefalle del quale vi ho parlato ora non appena l'avranno sciolta dal corpo della materia quest'anima in mezzo ai ricevitori direrà un grande flusso luminoso davanti alla luce di quell'anima i ricevitori avranno molta paura a seguito della paura provata alla vista della grande luce i ricevitori perderanno la forza cadranno desesisteranno completamente l'anima che ricevette il mistero dell'inefabile essendo un grande flusso luminoso volerà in alto i ricevitori non la potranno afferrare ignorando come è fatta la via che lei percorrerà diventa un grande flusso luminoso volerà in alto e nessuna forza sarà in condizioni di trattenerla non sarà in condizioni neppure di avvicinarla lei invece attraverserà tutti i luoghi degli arconti vi ricordo che i luoghi degli arconti non sono luoghi sono stati vibratori diversi volete fare i salti quantici ma quante minchiate vi hanno raccontato vabbè andiamo avanti per tutti i luoghi degli arconti e tutti i luoghi delle emanazioni della luce senza dare in alcun luogo né risposte né difese né segni segreti infatti nessuna forza di arconti nessuna forza di emanazioni della luce sarà in condizioni di avvicinare quell'anima bensì tutti nei loro luoghi l'aloderanno tutti i luoghi degli arconti e tutti i luoghi delle emanazioni della luce spaventati di fronte alla luce del flusso luminoso che avvolge quell'anima l'aloderanno sino a quando lei attraversati tutti i luoghi giungerà al luogo dell'eredità del mistero da lei accolto strepitoso questa è una vita che vale la pena vivere spendere in questo modo per arrivare nell'istante della tua morte a fargli un culo così ai ministri rindici scivolargli fuori dalle mani capite è il mistero dell'ineffabile è la tua vita vissuta con coscienza non andando dal terapenta perché quando crepi che gli va a raccontare sono della tipologia pim pum pam e quello ti dice perfetto potevi anche cambiarla questa cosa che puoi fare e tu dici puttana fammi ritornare perché non la sapevo bene te lo sto dicendo prima io così non devi aspettare di arrivare davanti al ministro rindico ti sei risparmiato l'incarnazione l'assegno poi lo fai all'interno all'uscita scherzo perché vi ho già detto che la misura del mio pagamento è un alto è quello se no ragazzi noi stiamo qua cicli cicli interi a fare un cazzo per questi pezzenti ma li avete visti cosa voi dovete guardare la politica solo per capire questa cosa non per mettervi a fare i deputati per capire qual è l'andazzo lo vedete qual è l'andazzo ma c'è più qualcuno che sta dicendo delle cose intelligenti lì in mezzo guardate ma non voglio farmi neanche i nomi è ripartito di nuovo sono riusciti a fare tutta l'altra cosa avete visto anche i risultati elettorali la conferma è quella lì non poteva essere un'altra perché 6 milioni di persone non 6 di numero 6 milioni di persone sono a sue fatte al sistema non è che tu all'improvviso a questi perché gli falli di rivoluzione erano un po' scazzati perché non vedevano risultati gli hanno dato il pover nicchio che loro volevano e basta si sono ritirati finito ma ti puoi fidare no perché non è quello capisci tu non puoi a Lazzaro è uno Lazzaro non è quello che ha risolto tutti i morti capite è uno che si risveglia perché Lazzaro non rappresenta Lazzaro rappresenta te tu sei Lazzaro è questa è l'anima completamente morta sotto la pressione dello spirito d'opposizione quello è Lazzaro arriva la luce del Cristo che ti resuscita Lazzaro alzati e cammina Lazzari del mio cuore dovete iniziare a muovere il culo perché se no voi finite così fino agli ultimi dei vostri giorni mentre il gioco possibile questa è sempre la mia storiella mi rinchiuderanno con la camicina di dietro però io continuerò a raccontare questa storia la storia di qualcosa che non è mai iniziata e non finirà mai e che ha una consistenza incredibile per quanto astratta contemporaneamente impersonabile impersonale ma che fa delle cose diverse da quello che noi crediamo e che ha un compito che è il più lungo capite voi vi hanno chiuso la vostra vita all'interno di quegli 80 anni io vi sto dicendo che la vostra esistenza è l'infinito che questi 80 anni sono solo un momento del vostro addestramento e se non incarnate il mistero dell'ineffabile quando disincarnate a quello che cazzo gli racconti e incarnare il mistero dell'ineffabile vuol dire incarnare questo chi è l'ineffabile di cui nulla si può dire la cui forza potenza creatrice è stata plasmata nel ritmo perenne della creazione che vuol dire devi conoscere questo non questo che minchia continua ad andare dal terapeuta quando hai capito quali sono le molle che spingono tutte le tue pulsioni inizia a vedere se puoi incontrare questa cosa capite perché non faccio lo psicoterapeuta a me mi interessa solo una cosa la rivoluzione la mia è quella di altri non so perché mi interessa quella degli altri non lo so sarà che ogni tanto quando contatti questa cosa diventando totalmente impersonale senti una condivisione comune con tutti gli altri e percepisci questa condizione di fratellanza per cui dici aspetta un po' va bene che uno non gli ne frega niente e già lì chi ha provato a aiutare qualcuno che gli è vicino si è accorto del grande peso e di quale incredibile decisione siamo chiamati a operare in quell'occasione perché? perché non lo puoi obbligare ho tenebrato e ipnotizzato dentro un sistema Matrix è il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità ma non solo che sei schiavo la verità io sono la via la verità e il cammino è ancora la stessa cosa no la vita la verità è il cammino è il cammino che vuol dire che non esiste ti incammini tutte le volte che contatti la vita esperimenti la verità è che questa cosa se riusciamo a produrla in modo scientifico iniziamo a fare dei balzi avanti stiamo incarnando il mistero dell'ineffabile stiamo accumulando forza che invece di dargliela a questa parte la stiamo caricando qui allora ci sta tutto che dopo tu mi spieghi come funzionano i meccanismi mi fai una bella costellazione familiare e mi fai capire quali sono gli agganci non che io che lui ha con mio padre mia madre e la mia famiglia che lui ha non che io è completamente diverso i traumi che lui ha non che io in modo che rimuovendo quelle cose rimuovo gli spinotti che mi stanno tenendo attaccato a Matrix e gli sto dando un mare di energia al sistema per quello ti serve non ti serve nient'altro non ti serve per stare meglio ve l'ho già detto se voi cercate pace e stare bene siete nel posto sbagliato perché la vita è conflitto è la lotta se mai cerchiamo la calma per condurre la lotta contro il nostro avversario capite la calma in calma lo osservo e dico puttana adesso ho capito quando capisci sciogli tutto perché questo non esiste è un alter ego è questa parte che rivestitasi del corpo fisico ha iniziato a muoversi nel mondo in un mondo matrix che non è all'altezza dell'anima ma è un mondo di mongoloidi decerebrati che tu non puoi fare altro che iniziare a costruire questa cosa ma inizi dai primi giorni se tu per allora se tua madre c'è i cazzi suoi da fare e invece di prendere il latte da tua madre tu lo prendi dalla badante o tua madre non ha abbastanza latte per mille ragioni e tu inizi a prendere il latte in polvere per quella cosa si cristallizza subito dentro una mancanza affettiva non so come dire c'era una cosa che doveva essere ricevuta che non è arrivata quella cosa produrrà continuamente per il resto della tua vita della sua vita della sua vita continuerà a alimentare una direzione di un bisogno piuttosto che un'altra perché poi ognuno di questi bisogni dove vanno? Prendono due direzioni eh sì o il desiderio o il possedere e dipende da come ti è andata a finire quando eri piccolo se sei stato ben accudito o anche fin troppo accudito o se non sei stato accudito per un cazzo quindi cercherai di colmare con le relazioni quel problema lì di accudimento se invece sei stato troppo accudito cercherai delle relazioni che ti devono cagliare poco perché se ti dà troppa retta il compagno o la compagna non lo vuoi perché? perché ne hai fin troppo vuoi fare esperienza ad un'altra cosa e via via così su tutto il resto vuoi sapere cos'è il condizionamento? Matrix è l'ambiente Matrix è l'ambiente in cui nasci che ti influenza e ti fa prendere questa forma come ho preso forma posso sformarmi quello che cerca che fa lo stregone leggete Castaneda ve l'ho già detto leggete Viaggio ad Ixran leggete il lato attivo dell'infinito il lato attivo dell'infinito parla di come funziona tutta questa faccella di che cos'è un nagual questo un guerriero è un nagual il nagual è colui che ha abbracciato il viaggio dell'eroe e diventa guerriero e quindi nel tempo sarà poi anche mapo però ragazzi che cazzo guardiamo a fare il gradino dopo se non abbiamo ancora guantato il primo cioè dov'è che gli investi per andare in acqua dietro allora l'innocente è qui arriva trova quell'ambiente e quell'ambiente gli darà una forma c'è un cazzo da fare ti hanno punito non ti hanno punito ti hanno cagato non ti hanno cagato i tuoi genitori divorziano uno dei due ti delude tu investi di più su uno e l'altro invece di stare ai coglioni perché poi fai tutto nella tua testa perché ti stai alterando piano piano che cosa accade questo innocente a un certo punto che lo capite che tutti questi psicoterapeuti vi stanno raccontando tutti la stessa storia e che si fermano qua cioè l'innocente a causa di come si relaziona col mondo è l'inadeguatezza degli esempi che ha intorno il problema è quello è l'inadeguatezza degli esempi perché perché in un mondo di inconsapevoli per quello che ho detto tuo padre e tua madre non hanno nessuna colpa sono inconsapevoli a loro volta sono cresciuti in un sistema di inconsapevoli e si hanno cercato di svilupparsi come potevano quindi noi ci troviamo all'interno a meno che non nasci a culo come quello lì che è nato con Giuseppe e Maria che quello era un mezzo iniziato e l'altro era la Madonna ragazzi e non siamo tutti uguali in quel senso capite? e quindi ha compiuto ma quello è arrivato già deciso ha detto ma andiamo ad aiutare perché questi io li ho guardati col binocolo fanno veramente pena se non va giù qualcuno a sacrificarsi questi non si schiodano più eppure vedi nonostante sia il duemila anni che parla perché continua a parlare perché una volta che un messaggio arriva parla parlerà per sempre nel tempo nonostante i duemila anni che parla ancora sono molto pochi coloro che lo ascoltano perché? perché non hanno le orecchie per intendere e l'orecchio per intendere è questo orecchio non è questo si capisce? quindi stavo dicendo quell'innocente a causa dell'ambiente che si ritrova dopo un po' diventa orfano conoscete questo? questo è arrivato a Jung qua si scopiazzano uno con l'altro non vi credete che qua sono tutti originali queste idee sono trite e riprite ovunque a me quello che mi interessa è rimetterle insieme all'interno di questa coerenza che manca non c'è l'uomo al centro ma l'uomo non è la macchina biologica l'uomo è l'anima che non se ne sa una minchia non sanno un cazzo ragazzi quindi l'orfano questo qui l'innocente che è giusto arriva innocente te lo dice Pisti Sofia ti dice la forza è debole l'anima è debole lo spirito d'opposizione è debole come dire è tutto ancora di così non ha preso ancora forma niente si relaziona col mondo a seconda di come i primi i primi che lo ricevono chi cazzo sono? il padre e la madre a meno che non è successo qualcosa lo zio e la zia il padrone e la madrina il nonno e la nonna o quello che è però diciamo che quelli che lo accorgono quelli inizieranno a determinare il primo le prime costruzioni quindi l'innocente è per lo più perché magari ripeto c'è qualche Cristo ogni tanto compare però per lo più tutti quanti due chiacchie l'ho messi ecco per lo più tutti quanti dopo un po' ma non ve lo ricordate più ma guardate che l'abbiamo vissuto tutti a un certo punto ci sentiamo traditi da entrambi i genitori ma tu lo sai perché ti senti traditi perché in quel momento tu ancora stai sperimentando gli effetti della discesa quindi c'è ancora una parte di te che è collegata con quella con l'agnosis con la conoscenza ma non la conoscenza che hai raggiunto nelle tue incarnazioni la conoscenza l'universo è una grande enciclopedia quando inizi a rallentare inizi le idee che scendono le intuizioni stanno arrivando dalla grande enciclopedia galattica ragazzi è da lì che arrivano le informazioni perché tu sei capace di andare a contattarli che cosa accade? a un certo punto tu sei più cosciente di loro e però ti manca dei pezzi perché in effetti questa cosa non si è sviluppata tanto e quindi a un certo punto la reazione più spontanea animale tipica quello chiamalo come ti pare è quella di sentirti fottuto da tutte e due sono deluso sono un bello orfano e inizia il tuo viaggio poi l'orfano inizia a giocarellare a fare il martire perché si è iniziato ad accorgere che facendo il martire riceve quelle attenzioni che da innocente non ha ricevuto guardate che tutti siamo squilibrati così perché tutti i nostri genitori per lo più o hanno esagerato in una direzione o hanno esagerato in un'altra perché perché non potevano avere la misura perché la misura sta nell'anima ma se l'anima loro dorme me lo spieghi dove l'hanno presa la misura te sì in quei lampi di bene che ti vogliono però poi tutto il resto è sempre stato gestito da un'altra parte per fortuna che ti hanno voluto bene perché quello è riuscito a caricare nonostante tutto il casino l'innocente continuo a vivere così nascosto nell'ombra all'interno di tutte queste esperienze fino a quando a un certo punto se quell'amore è stato abbastanza colmativo o la forza che uno ha preso dal padre capite il discorso come funziona è che finirà per precipitarlo a cercare qualcosa e allora si mette a fare il viandante e qui il sistema che ha capito bene come funzionava la faccenda sto viandante e ha cercato di azzoparlo un viandante va in giro così e continua a tirare delle bastonate sulle gambe riempendo di informazioni leggere sia informazioni che puoi leggere sia che informazioni che hanno a che vedere con il mondo astrale le interferenze tutte queste robe che voi dopo vi raccontate le scelchini le interferenze gli egregora i social network i gruppi spirituali esoterici le psicoterapie tutto qua è tutto qua per storpiare il viandante perché da una parte è svantaggio dall'altra se il viandante comincia a avere e aveva buona forza si rompe i coglioni e inizia a spezzare le catene e forse finalmente diventa un guerriero allora a quel punto il guerriero di chi ha bisogno? di addestramento e noi siamo sempre qui fermi qui il mago il coso cazzo ne parliamo a fare? qui dovete fare voi siete qua voi siete a cavallo di queste due cose e dovete solo decidere sappiate che non è solo una questione di lasciar capisce esci dalla tua terra e vai da dove riconosciano ma da 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 ve la ricordate la canzone in Cina, che si rifà poi all'Esodo, questo è l'Esodo, sono combattenti, l'Israelite è un combattente, Davide ha la fionda e gliene spacca la pietra in testa a Golia, Golia è quello qua, la pietra è la coscienza, è più che la coscienza, già inizia a essere la costruzione di qualcosa, per quello è una pietra, il guerriero, questo è il gioco, il passaggio è questo qua, il problema è che c'è una parte di voi che intuisce cosa significa questa cosa, e lui ti fa sentire paura, perché lui ti ha sempre accompagnato, guarda che lui alla fine ti ha difeso, lui ti è servito, perché in assenza di conoscenza, di informazioni, in assenza di qualsiasi possibilità di sapere, lui ha cercato con tutti i suoi vizi e cose di difenderti, al suo livello, capite perché quello nell'ascensore gli dice le cose che gli dice? Io sono il tuo amico, mi sono sempre occupato di te, sì è vero che ti sei occupato di me, ma poi dopo nel tempo ti sei anche iniziato a prendere un po' di autonomia e indipendenza, e ti sei accorto che se mi continuavi a lasciare nella merda in questo modo, tu continuavi a nutrirti e potevi vivere oltre la morte, un demone è questa cosa qua che è riuscita a succhiare talmente tanta forza, talmente tanta energia che ha costruito un corpo astrale autonome, indipendente e se ne va in giro. Questa è la roba, quello che viene chiamato, quello lo chiama Asna Musen, del primo tipo, del secondo tipo, del terzo tipo, del quarto tipo, a seconda di quello che sta iniziando a cristallizzare, Anakin Skywalker. Queste qui sono le cose, sono tutti schemi, sono storielle che vi racconto, ma per farvi intuire alcune altre cose che non possono essere spiegate a parole, questo deve essere chiaro, sono e che ragazzi qua vuol dire veramente andare in faccia all'infinito, è pericoloso perché se non viene capito bene diventate dei mongolo di due gianni fatalisti, dove vedete tanto ci pensa Dio, nulla a caso, eh sì è il mio essere che l'ha voluto, mia madre, mia sorella, mio cugino, mia nipò, un mezzo deficiente, convinto di stare facendo chissà quali percorso spirituale, è ancora lui, è ancora lui che sta guidando la vostra vita, bisogna stare molto attenti, perché è vero, quella esa ci vuole, un totale surrender all'infinito ci vuole, perché l'infinito, come intorno ad una persona si muove la vita, l'infinito è vivo, quando vedete i pallini, quelli bianchi che svolazzano nel cielo così, quelle cose non lo avete mai visto, la medicina ufficiale dice che sono sporcizie, le sporcizie che c'hai sulla cornia, va bene, saranno anche le sporcizie, però sta di fatto che la sporcizia c'ha una vita, cioè non è la sporcizia, capisci? Se io prendo un pelo, lo butto qua, il pelo non si muove più, se invece io mi metto a guardare il cielo sereno e comincio a vedere tutti sti vermicelli che si muovono, vuol dire, saranno anche batteri, sporcizia, chiamalo come vuoi, mi chiamano la sporcizia di un'attività pazzesca, che vuol dire che tutto è vivo qua, sarà anche la sporcizia, come viva la sporcizia, viva l'universo e quindi l'universo, siccome l'universo è intelligente, perché si organizza e te lo dice la scienza, loro parlano del caso, però non possono fare altro che continuare a osservare l'immensa coerenza che c'è nell'universo, su come si espande la materia, su come si muovono i satelliti, su come va tutto il resto, non possono che continuare, tant'è vero che formulano formule. Che cos'è una formula se non la constatazione di una sensatezza matematica infinitamente geometrica nel più non-prosultra della... Quello. Mi sto divertendo stasera. Per cui chissà quante altre cose, però capite, se tu lo prendi in modello New Age, che ti pensi? Che c'è sta sorta di infinito, un po' antrofomorfo, che decide delle cose per te e quindi ti senti anche un privilegiato, perché l'universo sta guardando a te. No, l'universo non ti incula di striscio, non sai neanche chi è, non sa neanche chi sei, lui si muove, si adatta e si modifica a seconda di come tu stai stimolando il campo. Se io faccio così, si è sentito un rumore, questa è una risposta, io ho fatto un'azione, tutto il resto che avete visto, il movimento, il rumore che è arrivato e tutto il resto, è la risposta. L'universo continua a fare, se faccio così, c'è un'altra risposta. stava a pensare a me la lavagna, ho detto se è carino mi faccio sprish, se invece mi dà un colpo gli faccio stock. Era lì, apparentemente inerte. nel momento in cui ho agito, in relazione con la lavagna, è il risposto. E il guerriero è quello, cerca di entrare in relazione con le forze dell'infinito, e che lì a quel punto perdi tutti i punti di riferimento. Per quello vi ho sempre parlato di una transizione. Lentamente transitiamo dal diandante verso il guerriero, per chi ha voglia, per chi se la sente, per chi ha quella spinta, in qualsiasi momento ognuno può mollare. E male, verrà mal giudicato, lo portiamo, già che ce lo segniamo sull'agenda quando crepa e arrivano i ministri rindici, andiamo insieme ai ministri rindici a rincarargli la dose. Non funziona così, eh? Nel senso non funziona per bene e male. Non esistono queste cose, il bene e il male stanno qua dentro. Sai da dove viene il bene e il male? Padre e madre. Padre e madre, il bene e il male, sono il padre e la madre, è la polarità, è la dualità. Quello è il bene e il male. Su questi due elementi, quell'innocente costruisce i valori di bene e male. A seconda di come uno dei due si relaziona con lui e come lui lo intende quella relazione, fa, costruisce, infatti ogni neonato, ogni bambino ha una relazione personale esclusiva con i due genitori. Anche se ha dei fratelli e delle sorelle, ognuno dei fratelli e delle sorelle produrrà un rapporto personale con l'uno e con l'altro. Tant'è vero che il genitore disorientato dice con questo ci riesco a parlare, con quest'altro non ci capisco un cazzo. Il genitore è ancora lo stesso, ma con uno riesce a avere relazioni, con un altro no, perché uno avrà deciso che lui gli andava bene e l'altro ha deciso che gli stava sui coglioni. Per dirla in una maniera. In realtà, nasce da altre cose. Però non ce ne frega, cioè non è questo il momento per... Quindi, capito come lavora il tizio, mi servono le informazioni, ma non per cominciare a darmi il tormento tutte le volte che c'è un'espressione che ha a che fare con sta roba, ma perché, putacaso, mentre questo opera, se per un attimo sono attraversato da un flusso di coscienza, mi accorgo e ho anche un'informazione che posso associare all'esperienza consistente. Filippo, la parola finalmente si inizia a collegare con ciò che ha consistenza. E allora lì divento un mandriano, perché quello che sta parlando qua, sta parlando di un santo... E... cavolo, sì... Il Vangelo di Filippo andrebbe letto tutto. Il Vangelo di Filippo andrebbe letto tutto. E' forse dei Vangeli quello più incredibile. Tant'è vero che in Pisti Sofia dice... Solo voi tre, ve l'avevo letto una volta, se vi ricordate parlava che c'è Filippo che a un certo punto vuole spiegare il pentimento di Pisti Sofia e a un certo punto Gesù gli dice tu non puoi perché devi continuare a scrivere fino a quando è il tuo pezzo che ti compete. E poi viene fuori Maria, spiega altre cose e a un certo punto la conclusione di questo fatto è perché tu Filippo, Tommaso e Matteo siete coloro che devono dare testimonianza. E uno dice... Vabbè... E allora sta testimonianza è andata persa. No, sono Vangeli. Tommaso parla del... Praticamente Tommaso scredita completamente l'istituzione cattolica per quello che non lo vogliono. Gli toglie... Com'è che si dice la parola giusta? Eh? Vabbè... Autorità, legittimità. Ecco, toglie ogni legittimità non solo alla Chiesa Cattolica ma in realtà ha tutte le istituzioni perché la rivoluzione cristica è a 360 gradi perché nel Vangelo di Tommaso si parla del Dio vivente e inizia proprio, però avete a pescare perché vale la pena l'avrete sentito miliardi di volte come dico notte non ce ne frega niente ecco qua sentite bene se coloro che vi guidano coloro che vi guidano quindi questo arriva in un contesto dove già c'è la gente schiava e ci sono dei grandi pastori che portano in giro ste pecorelli quindi non è una novità se coloro che vi guidano vi dicono ecco il regno di Dio è in cielo allora gli uccelli del cielo vi precederanno se vi dicono è nel mare allora i pesci del mare vi precederanno il regno è invece dentro di voi e fuori di voi non lo spirito fuori di voi dentro di voi e fuori di voi quando vi conoscerete allora sarete conosciuti e saprete che voi siete i figli del padre che vive ma se non vi conoscerete allora dimorerete nella povertà e nella e sarete la povertà non c'è una questione di giudizio ti sta solo dicendo come vanno le cose ti dice se non ti conosci resti questa cosa e rispetto a tutta questa ricchezza questa è povertà capite? cioè la bilancia sta in questa cosa qua cioè questa è la contropartita questo è quello che ti hanno raccontato e che ti fai affioffare e ti prendi come verità e ti fai pascolare in giro e quindi quando lui fa e per tutto il Vangelo continua a parlare in termini di il Dio vivente ridicolizza certe ritualità non la liturgia in sé perché la liturgia ragazzi la chiesa vi ha tolto lo strumento più importante ne ho già parlato in altre occasioni uno tutta la ritualità è che è l'aspetto cerimoniale è importante perché costruisco spazi dove far emergere questo se la liturgia diventa la liturgia di questi non funziona più come faccio io a far diventare una liturgia litos liturgia la parola è litos costruzione della pietra guarda un po' quale sarà la pietra la pietra di Davide che tira in testa a Golia quindi la liturgia è un cerimoniale che serve per far crescere svegliare questa roba qua se opera un sacerdote sacerdote cioè colui che è in grado di fare le cose sacre cioè qualcuno che ha già costruito la pietra è quindi in grado di fare vibrare tutte le altre pietre in modo che ogni pietra darà il suo tono se questo sacerdote tu me lo fai diventare un prete e la parola viene da Peter che è Pietro che è il pascolatore il buon pastore la liturgia non funziona più per questo funziona solo per le pecore cioè non funziona diventa ulteriore strumento per queste qui è sotto stress gli stanno succedendo un po' di cose è morta la madre è morto il padre la sorella sta all'ospedale lo spirito d'opposizione è nel caos tutto tale sta perdendo il lavoro disperato va in chiesa quando passa la muriana ricomincia tutto come prima quindi quell'esperienza non riesce a estrarle ma non è colpa sua ve lo ripeto se tu nasci in un ambiente che ti forma in quel modo ti voglio vedere a tirarti fuori devi avere veramente maturato una forza senza uguali probabilmente veramente in altri cicli è una vita che ci prepariamo a questa guerra perché perché è lo smacco finale capite il raggiungimento del numero delle anime perfette parla Pisti Sofia come dire che ci sono anime che sono da tempo in quella migrazione lì nel tentativo di cosa c'è oltre ma che cacchio lo sa ma se ancora dobbiamo cercare di riuscire a marciare questa cosa farla diventare così la visione della nostra vita è quella la difficoltà per quello che ci ritroviamo tutte le settimane io vi racconto sempre la stessa storia e ognuno è libero io mica vi obbligo a venire vi metto il fucile se non venite più se non venite più finito faccio qualcos'altro non lo so non lo so adesso c'è questo non è che penso cosa farò però adesso c'è questo però non è che vi obbliga a venire vi ho chiesto qualche cosa e quindi perché continuate a venire ma chi ve lo fa fare a sentire sempre le stesse cose sai perché state accumulando forza vi state preparando a fare il salto però ricordatevi una cosa che la prima volta cadono tutti quindi non fatevi abbattere se volate di che vi parlo io allora vedete che noi siamo su quel palazzoni io continuo a dirti sgombra la tua mente scetticismo dubbi paure sgombra la tua mente tu dici vabbè andiamo diretta prima o poi lo farai prima o poi un giorno dici puttana rotti i coglioni è nove mesi che sta dormendo basta partoriamola proviamo e dopo venite qua tutti scassati e cominciate a dire ma non avevi detto che non era vero eh lo so però purtroppo la tua mente lo rende reale in che senso lo rende reale non le costole rotte o il sangue nella bocca rende reale il fallimento e non dovete cadere in quella trappola non c'è fallimento stai aggiustando il tiro il fallimento ci può essere quando veramente arretri ma se perseverate vi posso assicurare che voi salto lo fate è solo questione di tempo oh ve lo dice il peggiore ve l'ho già detto mi hanno mandato il più gnoccone cioè quello proprio che non ce n'aveva di speranze per cui se posso farlo io lo può fare chiunque solo questione di tempo mettete costanza capite capite adesso perché Pisti Sofia fa 13 penitenze le fa finché invicia in vita prima che arrivino i ministri rimici nelle 13 penitenze incarna il mistero dell'ineffabile le 13 penitenze hanno a che vedere con le sefire ovviamente con dei piani vibratori capite di che cosa sta parlando questa cosa se no diventa difficile incontrarlo sono 9 misteri minori per chi studia queste cose arrivare a 13 che ci manca e 4 misteri maggiori anche se qualcuno sostiene che sono 5 perché nel fisico fisico e eterico sono una parte sola ma sono metafore anche quelle un giorno vi faccio un'altra volta la mappa e vi faccio vedere 13 gli eoni vuol dire che attraversa tutti i nostri inferni vuol dire quello intanto che siamo vivi e allora ci può stare che io devo conoscere un po' meglio come funziona il mio avversario posso come dire supportarmi con certe idee ma non è devo capire che sono strumenti in là e tra l'altro limitati solo allo studio dello spirito non c'è per questa roba qua non c'è modo di studiarla ognuno la sperimenta per conto suo e la scopre per conto suo e anche lì rischia pure di raccontarsi cagare per cui capite già iniziare ad accorgersi come lavora questa roba quali sono le nostre tendenze attitudini in quello già è un buon corso non fare nulla quante volte vi ho detto non fare nulla ma osservati quando accade perché può essere che in quel momento grazie a quella non lo so ma vi dovete volere bene perché se voi non vi iniziate a volere bene non può passare la coscienza non so come farvelo capire perché tu fai quello che ti dice lo spirito d'opposizione perché ti stai sui coglioni ti detesti e quindi siccome lui è la punizione a te ti sta bene capisci perché nel libro c'è scritto lo spirito d'opposizione accompagna l'anima per tutti i luoghi del giudizio e la fa credere di aver compiuto e la convince di aver commesso tutti i peccati perché questa è la punizione che tu ti stai infliggendo questo dobbiamo capire guarda che sentirsi orfani è una tragedia per un po' parte noi adesso ci verrebbe da ridere a pensare ma è mai possibile che veramente tutta la mia vita è dovuta a fare perché non lo so fai una lista di cose mettiti non ve l'avevo già suggerito non l'avete fatto si ve l'avevo suggerito mi ricordo mettete lì nome di papà e mamma e sotto cominciate a scrivere tutto quello che pensate tutto quello che vi esce di buono di cattivo sbattetevi i coglioni tutto quello che vi esce episodi che vi ricordate cose così provate è difficile è dura da fare perché c'è una parte che inizia a resistere la difficoltà più grave oppure uno dice no io non mi ricordo niente scrivi la prima parola che ti passa per la testa ci giochiamo i coglioni che è stronzo ma non è perché è stronzo per davvero è come tu infante l'hai vissuta perché tu arrivi qua in un mondo che non conosce il tutto e ti aspetti che ti debbano da istradare nel modo coerente il problema è che nasciamo in un mondo invece di mettecarti e quindi non ce ne sono in grado di istradarti e a un certo punto lì c'è andato tutto a fanculo penso io a me stesso quando ti va bene quando ti va male se sei debole che fai? piagnucoli fai martire e vai a cercare capite perché vi dico non è proprio così diretto o uno è orfano o l'altro è martire o entrambe le cose che intanto ci possiamo mettere un po' di tutto però il martire qual è? quello che non ha intuito una nicchia quindi è ancora più retrogrado di quello che almeno dice ma qui porca puttana qualcuno mi è arrivato da due istruzioni qua ha fatto un casino basta penso io a me stesso da questo momento in poi ci penso solo io e invece c'è quell'altro dove dice ma c'è qualcuno che mi vuole successo e vedi che però questo ti dice ma no ma figurati ti vuole e tu piano piano cominci a sentire tutto questo calore perché comunque qualcosa passa in quel momento e cominci vuol dire puttana però sta roba mica male ah mi sento meglio grazie il giorno dopo automatico capisci non è che è pensato automatico passa qualche giorno comincia a riguardare sto squallore e partono non è che lo facciamo così clamoroso capisci il bambino piange perché vuole mangiare tu fai altre cose ma stai cercando solo di attirare l'attenzione così arriva qualcuno ti abbraccia ti dà quel calore lì e tu sai come si chiama questo parassita prende senza dare niente in cambio comunque ragazzi secondo me state qua vedete un po' come organizzarvi che ore sono? vedete bene come organizzarvi e gli strumenti ce li avete tutti potete già iniziare un po' di addestramento parate a avere quel dominio di spegnere la radio la radio non è sotto il tuo controllo la radio è sotto il suo controllo quindi appena iniziano ad andare troppo cercate di spegnere perché se quella continua a parlare a un certo punto vi troverete in una situazione emotiva e a quel punto là è più difficile sottrarvi all'influenza di un emozionale fuori controllo e inizierete a avere comportamenti lì finisce tutto quando perdiamo coscienza? quando inizia a partire l'emozionale per quello che non c'è dominio di quella cosa lì dobbiamo imparare a riuscire a spegnerlo in tempo la radio perché è la radio che lo attiva e tutte le vostre belle pensate che lo attivano e coltivate spazi dove nutrire il silenzio capite la importanza del silenzio? il silenzio è perché così questa cosa assorbe dal campo non è vero che non sta succedendo niente quando sei nel silenzio in calma sta succedendo moltissimo dai fermiamoci qua buon amore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti